Arezzo sembra finalmente diventata una città turistica, a giudicare almeno dall'occupazione alberghiera degna di questa definizione, superiore cioè al 70%, almeno per due mesi l'anno, perché negli altri resta purtroppo ancora ampiamente sotto quella soglia. La stima arriva da ConfCommercio che analizza l'impatto di Arezzo città del Natale con il forte traino dei mercatini tirolesi in Piazza Grande. Da quattro anni a questa parte, spiega la direttrice di ConfCommercio, Katiuscia Fei, ovvero da quel 2015 in cui è stata lanciata la scommessa degli eventi natalizi, tra novembre e inizio gennaio vediamo segni tangibili di un incremento dell'occupazione alberghiera che in passato nessuno si sarebbe aspettato. A novembre, pur orfani dei partecipanti al forum RISC in Sanità, che era di casa ad Arezzo Fiera, gli hotel hanno visto salire l'occupazione media dal 44% nel 2014 al 60% del 2018. Quest'anno anche grazie alla concomitanza dell'Assemblea ANCI e dei concorsi al centro affari, probabilmente a novembre si è superato il tetto del 70%. Con l'occupazione sale anche il costo medio a camera, si potrebbe arrivare ad oltre 70 euro a IVA esclusa, con un incremento compreso tra 3 e 5 euro a camera. Questo significa che la gente è disposta a pagare di più per venire ad Arezzo, insomma salgono le quotazioni della nostra città, secondo Laura Lodone, responsabile area turismo di ConfCommercio Arezzo. A dicembre ci sono quindi le premesse perché si mantenga l'occupazione media attorno al 50% su base mensile. Peccato che il calendario di quest'anno abbia praticamente cancellato gli effetti solitamente benefici del ponte dell'Immacolata che cade di domenica. La scommessa è anche sul fine settimana del 21-22 dicembre, l'ultimo prima di Natale. E chissà che l'occupazione alberghiera non aumenti anche a gennaio, già passato dal 31,1% del 2014 al 44,2% dello scorso anno.